Molto soddisfacente e proficuo così il presidente Falcone ha definito l'incontro della commissione consigliare sanità avvenuto lo scorso 10 gennaio, incontro al quale sin dalle 10 ha partecipato il commissario straordinario già direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagerone. Le tematiche su cui è stato fatto il punto della situazione all'interno del Sant'Elia sono state molteplici, dal problema della carenza di anestesisti rianimatori dell'ospedale Sant'Elia, al reparto di pneumologia e infettivologia, alle guardie mediche, al pronto soccorso fino alla programmazione sanitaria territoriale futura e al decreto regionale che consentirebbe di reclutare i medici extra Unione Europea. Circa gli anestesisti rianimatori, il commissario straordinario ha ricostruito la vicenda dal 2019 ad oggi, chiarendo tutti i passaggi che riguardano sia le fasi concorsuali che le graduatorie relative e i meccanismi delle graduatorie che avrebbero favorito le città metropolitane mettendo in difficoltà il resto delle città siciliane. Tuttavia il reperimento di specialisti resta un nodo nazionale. Ed infine conclude il presidente della sesta commissione con tutti i colleghi di tutte le forze politiche siamo concordi sul procedere con una serie di incontri molto serrati in una serie di viste sia alle guardie mediche di via Malta che di Santa Barbara. E conclude è importante che si pensi ad una clausola di salvaguardia per le città come Caltanissetta. È fondamentale tutelare le strutture pubbliche. Esprime infine grande soddisfazione per il decreto dell'assessore regionale Volo per la soluzione dei medici extra Unione Europea. I problemi ci sono, le difficoltà sono tante, avremo sempre un occhio attento e vigile.